del convegno vi ricordo giornata gentleman di tutto di più mezzo meccanico in movimento buoni tre anni sul miglio cavalli a metà della piegata gradatamente stanno per completare l'allineamento un po' arretrato zingo top numero 8 prende velocità la macchina buono questa volta l'allineamento più che buono arretrato il 6 di zodaghi via la macchina in velocità ora è di problemi per zelig jet si chiudono le ali e a largo di tutti si impegna severamente per andare al comando zemira ma di dentro e zar nicolai r che manda via nelle prime posizioni vediamo un po' come si sistemano al comando zemira subito zador viene via 13 8 e il buon ciccarelli viene a chiedere strada con il suo zador sta passando zador al completamento della piegata e anche del quarto iniziale alle ali passato nell'ordine del 29 un battito per linee esterne risale l'undici di zoe dl che si trascina il 4 di zeus boccino si va al completamento dei 600 iniziali 600 che se ne vanno nell'ordine del 43 e 7 da 1 12 8 fuori corso il 7 cavalli sulla penultima curva cozei dl sempre a largo di zador si completa il mezzo miglio iniziale nell'ordine del 59 3 15 6 di frazione in buona posizione anche zeus boccino che ha coperto zemira allunga da zador cavalli al completamento del chilometro chilometro passato e addirittura in 1 14 3 e si fa notare zinco top che si trascina il 6 di zogandaghi al comando zador ma la leo di gallo viene via la grande il top di gallo 400 alla meta sta passando zingo top ma la michela rossa non lo perde di vista con il suo zogandaghi si va al completamento e la curva finale pochi argomenti per zador retta d'arrivo con zogandaghi che insiste zogandaghi viene via anche legati alla grande ed è zilendesse a largo di tutti cavalli zona traguardo reneato legati stampa con il suo as un'ottima michela rossi è un buon gallo 1 58 8 cavallo di grande giornologia facciamo e si abbraccia rene il berlene si abbraccia e ha ben ragione perché c'ha tutti i cavalli in ordine ma ci pensa il papà a guidarlo alla grande 1 58 8 1 14 e 3 andiamo a leggere un po la quota 8 e 95 bene zogandaghi non male zinco top buono per la prossima 9 68 si inizia all'insegna del buon legati ma questa volta è papà renato linea allo studio grazie grazie grazie